un saluto da ivan alcatel one touch idol mini anche alcatel seguendo una tendenza abbastanza consolidata sul mercato propone una versione mini di uno dei suoi più celebri telefoni mi riferisco all'idol anche se forse nel caso dell'idol sarebbe bene più che di telefono parlare di una sorta di famiglia oramai visto che è stato presentato in diverse in diverse versioni l'idol mini ha insieme ai suoi fratelli alcuni tratti caratteristici un design che pur senza far gridare al miracolo per originalità è comunque estremamente pulito e piacevole e soprattutto delle dimensioni molto molto contenute abbiamo 7,9 mm di spessore e nel caso dell'idol mini anche un peso davvero ridotto 96 grammi quindi scendiamo sotto la fatidica soglia dei 100 grammi e devo dire subito che questo apparecchio che ho usato per alcuni giorni in certi momenti mi ha fatto riassaporare quelle situazioni che vivevamo moltissimi anni fa in cui il telefono era così poco ingombrante in tasca che ogni tanto non capita di non ritrovarlo più quindi un telefono veramente molto divertente molto leggero da trasportare vediamo le caratteristiche principali il display è un display con tecnologia IPS con diagonale da 4,3 pollici la risoluzione è full wide wga 480 x 854 punti un buon display che risponde molto bene al tocco e che secondo me è anche molto bello per quanto riguarda la riproduzione dei colori ho caricato questa immagine che fa parte delle immagini già disponibili sul telefono dove secondo me è ben visibile una bella degradazione dei colori veramente piacevole da osservare nella parte superiore abbiamo una foto videocamera con risoluzione wga un'unità che supporta nativamente la videochiamata su rete telefonica abbiamo qui la capsula auricolare al sensori di luminosità e di prossimità nella parte bassa abbiamo tasto home tasto di ritorno e tasto di menu contestuale che se lungamente premuto attiva anche la modalità di multitasking questi tre pulsanti sono a sfioramento voglio dire subito che ho già detto in altre occasioni che ho una netta preferenza per il tasto fisico centrale a un'ora del vero li preferirei tutti fisici i tasti anche se la presenza dei tasti a sfioramento è un motivo ricorrente oramai nella grandissima parte dei terminali android tuttavia in questo telefono non vi so spiegare bene il perché sarà questa cornice così fortemente nera è uno di quegli apparecchi che mi ha messo più in difficoltà nell'andare a cercare i telefoni quando la retroilluminazione non è attiva si fa un po più fatica rispetto ad altri telefoni a trovare i tasti nella parte di sinistra troviamo subito un altro elemento fortemente caratterizzante della famiglia idol e direi più di alcatel in genere che quello della doppia sim abbiamo un doppio slot per schede micro sim quindi scheda 1 e scheda 2 nella parte bassa ingresso micro usb microfono principale in quella di sinistra pulsante per il controllo del volume nella parte superiore tasto di accensione ingresso cuffie da 3 mm e mezzo nella parte posteriore abbiamo questo cover plastico che non è rimovibile quindi non abbiamo accesso al vano batteria e come abbiamo già visto prima gli sportellini per le micro sim sono sistemati sui lati del telefono abbiamo una fotocamera da 5 megapixel con autofocus e flash led possibilità di girare video a 1280x720 pixel quindi in qualità hd abbiamo un secondo microfono per la soppressione di rumori ambientali e qui si un altoparlante di sistema volevo subito spendere due parole anche per quanto riguarda la fotocamera che pur non essendo dotata di numeri eccezionali abbiamo una risoluzione piuttosto modesta rispetto agli standard del mercato secondo me funziona veramente molto bene una buona capacità di lavorare in condizioni di luce quelle più rognose quando siamo in casa che si fa un po fatica a fare delle foto direi che lavora abbastanza bene in relazione al al tipo di telefono mi ha più impressionato ancora di più la qualità dei video che sono veramente molto fluidi molto puliti quindi direi che in relazione al tipo di unità abbiamo un funzionamento di alto livello sotto al cover troviamo una batteria da 1700 mAh e anche qui spendo subito due parole di plauso direi che se non massacriamo il telefono con un utilizzo veramente eccessivo la durata è piuttosto interessante ho fatto un utilizzo per qualche momento un po' atipico per quanto mi riguarda utilizzando un po' di più le funzioni multimediali nella fattispecie youtube qualche giorno fa in macchina con i miei figli in particolare gli ho lasciato il telefono per vedere qualche cartone di mato sentire delle musiche siamo andati avanti un'oretta e devo dire che il telefono ha un consumo della batteria che davvero non è spropositato durante le applicazioni multimediali quindi direi che il sistema probabilmente ha un funzionamento piuttosto equilibrato e non troppo dispendioso di energia andiamo a vedere di cosa stiamo parlando abbiamo un processore dual core con clock da 1,3 gigahertz scheda mali 400 512 mega di ram forse l'unico dato che un po stona in una situazione tutto sommato valida di questo di questo telefono devo dire che il telefono non mi sia mai piantato non ha mai avuto dei forti rallentamenti vero è che 512 mega di ram al giorno d'oggi sono un po pochini forse si poteva cercare di arrivare almeno almeno a un giga presenza di wifi bluetooth e gps scambio dati a 21 megabit in download e 5,76 in upload ho dimenticato di parlare della memoria fisica che è di 8 giga una memoria fisica integrata non espandibile ne abbiamo 5 disponibili all'accensione questo è uno degli elementi discriminanti rispetto alla versione mono sim di questo telefono che è stato presentato anche nella variante con una sola sim card la versione mono dispone di soli 4 giga di memorie interni ma sono espandibili con supporto micro sd ritengo che il problema sia dato dal fatto che essendo un telefono con delle dimensioni estremamente contenute nello spessore lo slot che qui viene utilizzato per la seconda sim vi sia stato sacrificato nella versione mono sim per la scheda di di memoria da dove partiamo un po' a descrivere questo apparecchio partiamo dalla parte telefonica visto che è un telefono dual sim abbiamo un'interfaccia grafica abbastanza minimalista che a me personalmente piace dotata di una buona ricerca intelligente dei contatti andiamo subito a vedere come funziona la doppia sim in questo caso ho condizionato la richiesta da parte mia di quale delle due sim deve far partire la chiamata sarà mia cura scegliere quale delle due e partirà la telefonata andiamo a vedere come si arriva a questo tipo di impostazioni gestione sim nel paragrafo impostazioni troviamo elencate le sim che abbiamo inserite nel telefono in questo caso sono entrambe vodafone ma possiamo anche decidere di cambiare il nome il paragrafo in parte importante questo qui sim predefinita entrando in tutti i sottomenu potremmo decidere di determinare che una delle due sim sia predefinita rispetto all'altra oppure che il telefono prima di eseguire il tipo di operazione ci domandi con quale delle due sim la vogliamo eseguire sia per la chiamata vocale per le videochiamate per la messaggistica e anche per la connessione ai dati diciamo che il menu è abbastanza basico ma molto chiaro e ben funzionante direi a prova di bomba non si dovrebbe sbagliare niente parte telefonica con un funzionamento assolutamente medio va bene sia in ricettrasmissione e non è niente male anche la capsula auricolare andiamo a vedere il browser il browser ha sia la versione è disponibile sia nella versione stop che con chrome che è già precaricato abbiamo caricato qui la nostra home page direi che anche qui nulla da ridire il sistema carica molto velocemente la pagina possibilità di impostare la modalità desktop in maniera permanente direi che senz'altro in relazione alle caratteristiche del telefono anche il browser svolge in maniera più che greggia il proprio il proprio mestiere volevo anche dare un'occhiata a come il telefono ci viene consegnato di fatto è uno di quegli apparecchi che dà la sensazione di non aver bisogno quasi niente lo estraiamo dalla scatola e c'è già quasi tutto quello che serve abbiamo la presenza di un antivirus alcuni giochi precaricati abbiamo la possibilità di accedere anche a una sorta di di market questo one touch live di di alcatel dove possiamo scaricare alcune applicazioni ma direi che la cosa vera è che abbiamo anche precaricati quei programmi che usiamo un po tutti quanti diciamo facebook diciamo whatsapp giusto per non fare nomi che sono un po quei programmi insieme ad altre cose che sono quelli che immediatamente ognuno di noi installa alla prima accensione del telefono quindi direi una distribuzione di android in questo caso la 4.2 arricchita già con diversi software da parte del produttore che gira direi piuttosto piuttosto bene che cosa possiamo raccontare di questo idol mini è un telefono come dicevo che senza dubbio si fa notare per lo scarso fastidio che ci dà in tasca leggero facilmente trasportabile veramente veramente bello da portarsi a spasso un buon display e un buon funzionamento generale direi che si poteva inserire un banco di ram un po più generoso ma tuttavia questa situazione non va a inficiare sul corretto funzionamento del telefono vogliamo andargli a cercare qualche difetto a me personalmente piace molto esteticamente ma certamente è un pochino banale nelle linee e ricorda moltissimo anche un altro modello della famiglia Alcatel che è lo star la realtà di fatti è che sono quasi identici se non fosse per lo spessore leggermente più ridotto e per un display leggermente più grande qui abbiamo un 4 3 contro un 4 quindi direi che per entrambi possiamo dire senza problemi che forse appaiono un pochino un pochino anonimi detto questo io trovo che sia un telefono molto soddisfacente per tutto quello che fa e che penso non deluderà il suo acquirente finale bene mi fermo qui un saluto da Ivan e ai prossimi video